Cione, che è un po' di tempo che è in Italia, quindi credo che voi lo conosciate, è un brasiliano. Io nel lontano 2008 l'ho anche visto in Brasile, che giocava in una squadra di seconda divisione, mi sembra, no? Sì, sì. Lo vi di giocare perché allora sono andato per l'Udinese, lavoravo per l'Udinese e ho visto Alberto, il laterale destro. E mi ricordo di lui, dopo avevo perso le tracce e ho visto che era andato in Polonia. E niente, se è stata l'occasione dovevamo completare il reparto difensivo e soprattutto dovevamo prendere uno un po' più sicuro, un po' più esperto della categoria. Anche se non l'ha mai fatta, però conosce bene il calcio italiano, che alla fine seria via seriano, la lingua è quella e gli interpreti anche. Quindi è un giocatore d'esperienza che credo si troverà benissimo da noi. Con nostra felicità siamo arrivati a portarlo via da Modena, che sta facendo un buon campionato ed era un giocatore che serviva. Però la Serie A è sempre allettante, penso per lui. Quindi uno che va a completare il nostro reparto e penso che in difesa siamo a posto così.